Mentre il sole tramonta sui paesaggi dei nostri antenati, il sussurro silenzioso della morte introduce un racconto dei defunti, una narrazione scolpita dal tempo, dalla tradizione e dalla macabra affascinazione delle civiltà per coloro che sono passati. Immagina il Colosseo nel suo splendore, circa nell'ottantesimo anno del Signore, che echeggia con i ruggiti di una folla mentre un gladiatore cade, il suo corpo lasciato alle sabbie, o reclamato per riti che possono onorarlo o condannarlo nella morte. Questi guerrieri, spesso schiavi, incontravano la loro fine con uno spettacolo, i loro corpi talvolta disposti senza cerimonia o, se fortunati, dati alla terra con riti che parlavano di rispetto e ricordo. Avventurati quindi sul tetto del mondo, in Tibet, dove la sacra pratica della sepoltura celeste offre un netto contrasto. Qui, nell'aria sottile e fredda, i morti sono offerti di nuovo alla terra, i loro corpi abilmente smontati e lasciati sulle cime delle montagne affinché i avvoltoi li consumino. Poi, in mezzo all'illuminazione e alle ombre della Parigi del XIX secolo, l'obitorio divenne un'attrazione improbabile. Qui, i corpi dei non identificati o non reclamati erano esposti dietro il vetro per la visione del pubblico, attirando folle come se fosse una mostra macabra. Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio sommesso, attraverso i riti e i rituali della morte, siamo ricordati delle parole del filosofo romano Seneca «La morte è il desiderio di alcuni, il sollievo di molti e la fine di tutti». Possiamo veramente comprendere i miria di modi in cui le culture onorano i morti, o è l'essenza di queste pratiche tanto sfuggente quanto il confine tra la vita e la morte stessa? Unisciti a noi mentre ci addentriamo nel mondo enigmatico dei morti, esplorando i riti finali e le curiose tradizioni che hanno accompagnato coloro nel loro viaggio verso l'aldilà. Benvenuto nel diario di Giulio Cesare. Arena Eterna, l'oltretomba dei gladiatori di Roma Nel cuore dell'antica Roma, il Colosseo sorgeva come testimone della grandezza dell'impero e della sua complessa relazione con la morte. All'interno delle sue vaste muraicheggianti, gladiatori, schiavi, prigionieri di guerra e volontari allo stesso modo, combattevano valorosamente, spesso fino all'ultimo respiro, per l'amusement del popolo e il favore degli imperatori. Lo spettacolo del combattimento gladiatorio, una danza con la morte sotto il cielo inondato di sole o al bagliore delle torce, era più che mero intrattenimento. Era un rituale intriso di significato religioso, una dimostrazione di valore marziale e una riflessione dell'ordine sociale. Tuttavia, la conclusione di questi balletti cruenti sollevava una domanda cupa. Cosa accadeva ai gladiatori caduti, coloro che avevano pagato il prezzo finale nell'arena cosparso di sabbia? Il destino di questi guerrieri dopo la loro battaglia finale era organizzato meticolosamente quanto la loro vita nell'Udus, la scuola dei gladiatori. Contrariamente alla credenza popolare che tutti i gladiatori incontrassero la loro fine nell'arena, molti sopravvivevano, sebbene spesso portando le cicatrici dei loro incontri. Per quelli meno fortunati, la loro uscita dalla scena del combattimento era governata da rituali e ruoli specificamente designati per tali momenti. La figura centrale a questa processione post-mortem era il Libitinario, nominato dopo Libitina, la dea romana dei funerali e della sepoltura. Questa persona, o talvolta un gruppo di persone, era responsabile per rimuovere i corpi dei defunti dall'arena. Vestito con l'abito di Mercurio, il messaggero degli dèi, e armato con un ferro caldo, il Libitinario pungeva i caduti per assicurare la morte, imitando il ruolo di Mercurio come conduttore delle anime nell'oltretomba. Una volta confermata, il corpo sarebbe stato portato via attraverso la porta Libitinense, appropriatamente nominata come la Porta della Morte, che serviva come passaggio a senso unico dal mondo dei vivi al regno dei morti. La processione guidata dal Libitinario allo Spogliarium, un termine derivato dal latino spolium, che significa bottino di guerra, era un viaggio dall'occhio pubblico alla privacy della morte. Qui, nelle ombre lontano dalla grandezza del Colosseo, i corpi erano spogliati delle loro armature e di qualsiasi ornamento personale. Questa pratica rifletteva i rituali della guerra romana antica, dove i bottini erano raccolti e esposti come simboli di vittoria. È in questo contesto che le parole del poeta giovenale risuonano. Il popolo che un tempo conferiva comandi, consolati, legioni e tutto il resto, ora non si intromette più e brama con impazienza solo due cose, pane e circo. Questa citazione sottolinea l'importanza sociale dei giochi come mezzo di appagamento e distrazione, evidenziando la profondità dell'influenza dello spettacolo sulla vita romana. La disposizione di questi corpi variava. Alcuni, in particolare quelli di fama o natali nobili, potrebbero essere reclamati da famiglia o amici per un funerale appropriato. Altri, tuttavia, trovavano il loro ultimo riposo nei cimiteri che punteggiavano le periferie delle città romane, luoghi designati per schiavi e non cittadini. Questi siti, spesso privi del fasto e della cerimonia dei funerali patrizi, offrivano comunque un'apparenza di dignità nella morte, ben lontana dalla fine ignobile che si potrebbe aspettare per coloro che perivano per intrattenimento. Iscrizioni ed epitaffi, trovati in tali cimiteri, offrono uno sguardo nelle vite e nelle morti di questi combattenti, con alcuni segnati da espressioni di rispetto e lutto da parte di coloro che hanno lasciato. Mentre alcuni, come il venerato gladiatore Spartaco, che guidò la famosa ribellione degli schiavi nel 73-71 a.C., rimanevano non reclamati a causa del loro status come nemici dello Stato, altri ricevevano disposizioni più onorate. Un esempio toccante è la lapide di un gladiatore chiamato Flamma, che, nonostante Ghilli fosse stata offerta alla Rudis, la spada di legno che simboleggia la libertà quattro volte, scelse di rimanere nell'arena. La sua epitaffio proclama con orgoglio le sue vittorie, la sua scelta di continuare a combattere e il suo riposo finale tra i suoi fratelli caduti. Scrittori romani, da Seneca a Cicerone, commentavano i giochi gladiatori con un mix di fascinazione e orrore, riflettendo le emozioni complesse che questi spettacoli evocavano. Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, descriveva di aver assistito ai giochi di persona, esprimendo il suo disappunto per la sete di sangue della folla. Colui che combatte con i mostri dovrebbe stare attento a non diventare a sua volta un mostro. E se fissi a lungo in un abisso, anche l'abisso fisserà in te. Gli epigrammi di Marziale, d'altra parte, celebrano il valore e la prodezza dei campioni dell'arena, immortalando le loro imprese inversi e offrendo un netto contrasto alle preoccupazioni morali di Seneca. I gladiatori dell'antica Roma, anche nella morte, non furono mai dimenticati. I loro corpi, un tempo strumenti del loro mestiere, erano trattati con un misto di riverenza e praticità, riflettendo le visioni multifaccettate della società romana sulla morte e l'oltretomba. Mentre le sabbie dell'arena sono da tempo state spazzate via, le storie di questi antichi guerrieri, come vivevano, combattevano e venivano ricordati dopo la loro battaglia finale, continuano a catturare e tormentare gli annali della storia. Viaggio eterno L'arte e l'anima della mummificazione egizia Nel cuore dell'antico Egitto, tra le sabbie senza tempo e le piramidi monumentali che squarciano l'orizzonte, prosperava una civiltà profondamente intrecciata con i misteri dell'aldilà. Centrale nella loro ricerca dell'eternità era la sofisticata pratica della mummificazione, un rituale tanto una scienza quanto un viaggio spirituale, progettato per preservare il corpo dai flagelli del tempo. Questo elaborato processo, perfezionato nel corso dei millenni, non riguardava semplicemente la morte, ma era una profonda testimonianza della vita, della fede e dell'anima duratura. Le origini della mummificazione egizia risalgono alle dinastie più antiche, intorno al trentesimo secolo prima dell'era comune, con le sue tecniche che si evolsero in una forma d'arte entro il tempo del nuovo regno, intorno al millesimo cinquecentocinquantesimo, al millesimo settantesimo secolo prima dell'era comune. Gli egizi credevano in un aldilà dove i defunti vivevano, la loro esistenza parallela a quella terrena, ma in un regno divino. Per un tale viaggio, la conservazione del corpo era cruciale. si pensava che gli elementi spirituali di una persona, il loro Ba, Anima e Ka, essenza spirituale, richiedessero un recipiente fisico a cui tornare, assicurando l'immortalità. Il processo iniziava con la purificazione del corpo, lavandolo con acqua del sacro Nilo. Seguiva la rimozione degli organi interni, con il fegato, i polmoni, lo stomaco e gli intestini accuratamente estratti e posti in vasi canopi, ciascuno protetto da uno dei quattro figli di oro. Il cuore, ritenuto la sede della saggezza e dell'emozione, era tipicamente lasciato all'interno del corpo, ritenuto essenziale per il giudizio finale da Osiride, il dio dell'aldilà. Forse, il passaggio più riconosciuto nel processo di mummificazione era la disidratazione e conservazione del corpo usando il natron, una miscela di sali che si trova naturalmente. Questa fase di dissecamento, che durava circa 40 giorni, era fondamentale per prevenire il decadimento. In seguito, ghigli imbalsamatori avvolgevano abilmente il corpo in centinaia di metri di lino, intervallati da amuleti e talismani per proteggere il defunto nel loro viaggio. Il libro dei morti, una raccolta di incantesimi e preghiere, spesso accompagnava la mummia, guidando il defunto attraverso i pericoli del mondo sotterraneo. Il caso di Ramses II, millesimo, duecentonovantanovesimo, millesimo, duecentotredicesimo secolo prima dell'era comune, la cui mummia, rivela l'abilità degli imbalsamatori antichi, evidenzia l'efficacia di questi metodi. Più di tremila anni dopo, i lineamenti del faraone rimangono riconoscibili, testimoni silenziosi della meticolosa cura dei suoi imbalsamatori. Figure prominenti, come faraoni e nobiltà, ricevevano la mummificazione più elaborata, riflettendo il loro status e la ricchezza che potevano dedicare al raggiungimento dell'immortalità. La scoperta della tomba di Tutankhamon, nel 1922, da parte di Howard Carter, rivelò il culmine dell'arte della mummificazione e le lunghezze a cui gli antichi egizi andavano per assicurare l'aldilà per il loro re. Il corpo del giovane faraone, adornato con una maschera d'oro e circondato da tesori, giaceva in una serie di sarcofagi nidificati, ognuno più intricato dell'ultimo. La mummificazione non era riservata solo all'élite. Variazioni della pratica erano accessibili anche a coloro di mezzi più modesti. Il livello di cura e complessità nel processo di mummificazione rifletteva lo status sociale del defunto e le risorse della loro famiglia. Tuttavia, la credenza sottostante nell'aldilà e la necessità di un corpo conservato univa tutte le classi nella società egiziana antica. I ritratti mummificati di Fayum, ad esempio, rivelano un'integrazione delle pratiche funerarie egiziane e romane illustrando l'adozione e l'adattamento diffusi della mummificazione attraverso diversi periodi e culture all'interno dell'Egitto. La pratica della mummificazione impregnata di significato religioso rifletteva anche la profonda connessione degli antichi egizi con il loro ambiente, l'uso del natron dal deserto, resine e oli da piante locali e la dipendenza dalle acque vitali del Nilo esemplificano la loro armonia con il mondo naturale. Questa connessione è epitomizzata nelle parole del saggio egiziano antico Ptahotep che consigliava «Segui il cuore finché vivi», un promemoria dei valori che guidavano la vita e la morte egizia. Spettri di Parigi Il richiamo macabro dell'obitorio del XIX secolo Nel cuore di Parigi del XIX secolo, tra i grandi viali e i caffè affollati, giaceva un'attrazione che attirava i curiosi, i morbosi e semplicemente annoiati, l'obitorio. Questa peculiare istituzione, situata sull'île de la Cité, vicino a Notre-Dame, trasformava la cupa questione della morte in uno spettacolo pubblico, offrendo una finestra sulle correnti più oscure della città. L'obitorio di Parigi, stabilito nella sua forma più famosa nel 1864, diventò un testimone del fascino dell'epoca con la morte e il macabro, un luogo dove i morti anonimi venivano esposti dietro il vetro per la visione pubblica. La pratica di esporre i morti non identificati era inizialmente intesa come un metodo per facilitare l'identificazione da parte di amici o familiari. Tuttavia, si evolse rapidamente in una forma di intrattenimento e voyeurismo, attirando migliaia di visitatori ogni giorno. L'attrattiva dell'obitorio non era persa neanche sui viaggiatori, con le guide turistiche dell'epoca che spesso lo elencavano insieme al Louvre e alla Torre Eiffel come attrazione da non perdere. Lo spettacolo era gratuito, le porte erano aperte a tutti e la mostra cambiava continuamente, con i corpi sostituiti frequentemente per fare spazio a nuovi sfortunati. Il tablò presentato ai visitatori era macabro, eppure meticolosamente organizzato. I corpi, alcuni freschi e altri in varie fasi di decomposizione, erano disposti su lastre di marmo, raffreddati da un sistema di refrigerazione per rallentare la decomposizione. Un foglio di vetro separava gilii spettatori dai defunti, una barriera che faceva poco per diminuire il senso di intimità con la morte. La scena era illuminata da un lucernario strategicamente posizionato, che proiettava una luce spettrale sui volti dei morti, intensificando lo spettacolo inquietante. Il fenomeno dell'obitorio come attrazione turistica dice molto sugli atteggiamenti sociali verso la morte nella Parigi del XIX secolo. Era un periodo segnato da rapidi cambiamenti e rivolgimenti, dalle rivoluzioni del 1848 alla guerra franco-prussiana e alla comune di Parigi. In tali tempi, la morte era una presenza costante e l'obitorio offriva un luogo per affrontare la mortalità in modo sia distaccato che intensamente personale. I morti anonimi servivano come uno specchio per i vivi, un commento silenzioso sulla fragilità della vita e sull'anonimato della morte in una metropoli brulicante. Una storia notevole coinvolge il misterioso caso della sconosciuta della Senna, il cui sorriso sereno e enigmatico catturò sia il pubblico che gli artisti dell'epoca. Il suo corpo, esposto nell'obitorio alla fine degli anni 1880, non trovò mai un'identità, ma il suo viso andò a ispirare innumerevoli opere d'arte e letteratura, immortalandola come simbolo di mistero eterno. L'obitorio trovò anche la sua strada nella letteratura e nell'arte del periodo, riflettendo il suo profondo impatto sulla coscienza culturale di Parigi. Emile Zola, nel suo romanzo Thérèse Racquin, descrive una visita all'obitorio con un'accuratezza raccapricciante che cattura la curiosità morbosa delle folle e la cruda realtà dei corpi esposti. Charles Baudelaire, il poeta del macabro, alludeva all'obitorio nelle sue opere tracciando paralleli tra la bellezza dei morti e la noia esistenziale della vita moderna. Aneddoti dell'epoca abbondano, dipingendo quadri vividi dei visitatori dell'obitorio. Una storia racconta di signore parigine alla moda, adornate con le loro finerie che passeggiavano attraverso l'obitorio come parte della loro promenade pomeridiana. Un'altra narra la storia di un giovane che riconosce la sua fidanzata tra i corpi esposti, un evento tragico che sottolinea il ruolo dell'obitorio nell'interazione del pubblico con la morte. Una famosa citazione attribuita a Mark Twain durante la sua visita a Parigi cattura la peculiare fascinazione con l'obitorio. Le persone hanno una curiosità a salutare di vedere da sé come appare la somiglianza con la morte. Questo sentimento incapsula la doppia natura dell'attrazione dell'obitorio. Parte educativa, parte voyeuristica, era un luogo dove si poteva guardare la morte in sicurezza, da lontano, eppure sentirne il freddo respiro. L'obitorio di Parigi sta come una curiosità storica, una finestra in un periodo in cui la linea tra intrattenimento e morbosità era sfocata e la morte diventava uno spettacolo. La sua popolarità calò con il cambio del secolo e gli atteggiamenti sociali verso la morte e la dignità dei defunti si evolsero. Eppure, per un tempo, servì come un severo promemoria dell'onnipresenza della morte nella città della vita, un luogo dove i morti anonimi sussurravano storie del cuore della città a chiunque volesse ascoltare. Sulle ali della libertà, il sacro ciclo delle sepolture celesti tibetane, alto nei rilievi aspri e battuti dal vento dell'altopiano del Tibet, si svolge un profondo e sacro rituale che parla al cuore della filosofia buddista e del profondo legame del popolo tibetano con il mondo naturale. Conosciute come sepolture celesti, questa antica pratica offre un ultimo addio ai defunti, affidando la loro forma fisica ai becchi degli avvoltoi, in un ritorno diretto e toccante ai cicli della natura. Questo rituale, immerso nella credenza buddista, nella transitorietà e nell'impermanenza della vita, riflette una profonda comprensione dell'effimero della vita e dell'interconnessione di tutti gli esseri. Le origini delle sepolture celesti in Tibet sono antiche quanto a volte nel mistero, risalenti a secoli fa. La pratica è radicata nel buddismo Vajrayana, che si diffuse in Tibet dall'India nell'VIII secolo. Le sepolture celesti si basano sul principio Dijator, che si traduce in dare elemosine agli uccelli, un ultimo atto di generosità da parte del defunto, che offre il proprio corpo come sostentamento per i viventi. Questo rituale incapsula già gli insegnamenti buddhisti sull'impermanenza, la compassione e il ciclo di vita e morte, incoraggiando un distacco dalla forma fisica. La sepoltura celeste inizia con una preparazione rituale che ha luogo lontano dagli occhi dei non iniziati, spesso in luoghi designati come terreni di sepoltura. Il corpo del defunto viene pulito e avvolto in un panno bianco, poi lasciato a riposare mentre i Lama, monaci buddhisti tibetani, recitano preghiere e mantra, invocando la partenza dell'anima dal corpo. All'alba, il corpo viene portato al sito di sepoltura, dove il maestro del rituale, o rogiapa, talvolta definito come spezzacorpo, esegue il compito di smembrare il corpo, un processo visto non come un atto di dissacrazione, ma come un ultimo atto di carità e compassione. Nella desolata bellezza dei terreni di sepoltura, contro il retroscena delle aspre montagne del Tibet, gli avvoltoi assemblati attendono. Il rogiapa, con movimenti precisi e rispettosi, prepara il corpo, assicurando che ogni parte sia accessibile agli uccelli. Questo momento, quando gli avvoltoi scendono in una congregazione silenziosa e solenne per partecipare all'offerta, è visto come la liberazione dell'anima, il suo rilascio dai legami del mondo fisico, per rinascere in conformità ai cicli del karma. L'importanza dell'avvoltoio in questo rituale non può essere sopravvalutata. Considerati con riverenza, questi uccelli sono visti come dachini, danzatrici del cielo, che portano i defunti verso i cieli. La loro accettazione del corpo è vista come un buon auspicio, indicando che i peccati del defunto sono stati perdonati e che la loro anima è stata liberata dal ciclo del samsara, il ciclo infinito di rinascita. Le sepolture celesti non sono semplicemente una pratica funebre, ma un'espressione profonda della visione del mondo tibetana, che vede la morte come una transizione piuttosto che una fine. Questa prospettiva è incapsulata nelle parole del Dalai Lama, che riflette sulla natura dell'esistenza. Questa vita è come una nuvola che passa. Le sepolture celesti diventano così una manifestazione fisica di questa filosofia, un rituale che intreccia visibilmente vita e morte, dolore e liberazione. Nel corso degli anni le sepolture celesti hanno attirato interesse e incomprensione in egual misura. Per il popolo tibetano, tuttavia, sono una tradizione sacra, un affare privato, inteso ad onorare i morti e le leggi naturali che governano l'esistenza. Negli ultimi tempi sono state prese misure per proteggere la sacralità delle sepolture celesti, limitando l'accesso agli estranei per preservare l'integrità e la dignità del rituale. Gli aneddoti sulle sepolture celesti spesso evidenziano il profondo impatto emotivo del rituale sui parenti addolorati, offrendo una liberazione catartica e un profondo senso di pace, sapendo che i loro cari sono tornati alla terra nel modo più altruistico. Il rituale, nella sua accettazione cruda e senza veli della morte, offre una potente lezione sull'impermanenza della vita, incoraggiando un apprezzamento più profondo per la natura effimera dell'esistenza. Le parole del quattordicesimo Dalai Lama «Il nostro scopo principale in questa vita è aiutare gli altri, e se non puoi aiutarli, almeno non far loro del male, risuonano con lo spirito della sepoltura celeste». Echi di Quiete, il memento mori dell'epoca vittoriana. Nei salotti scarsamente illuminati del XIX secolo, tra il fruscio del crepe nero del lutto e il solenne rintocco delle campane della chiesa, prese radice una tradizione toccante nel cuore vittoriano. Quest'epoca, un tablò di contrasti dove i progressi della rivoluzione industriale incontravano una profonda preoccupazione per l'aldilà, diede origine alla fotografia post-mortem. Questa pratica, al tempo stesso inquietante e tenera, forniva un ponte tra i regni dei vivi e dei defunti, catturando i volti dei propri cari in un ultimo, eterno abbraccio. L'origine della fotografia post-mortem, nei primi anni 40 del 1800, coincise con i primi passi della fotografia nella coscienza pubblica. Il daguerrotipo, introdotto da Louis Daguerre nel 1829, offrì il primo mezzo pratico di catturare la somiglianza umana, uno specchio magico che sembrava congelare il tempo stesso. Per le famiglie in Europa e in America, questi ricordi fotografici divennero oggetti preziosi, particolarmente in un'epoca in cui la morte era un visitatore costante, la sua ombra alleggiante sui giovani e sugli anziani, allo stesso modo a causa di malattie come la tubercolosi, che devastava la popolazione senza riguardo per età o status. Questi ritratti commemorativi spesso ritraevano il defunto in uno stato di riposo pacifico, vestito con i suoi abiti migliori come se fosse semplicemente addormentato. Un esempio commovente di questa forma d'arte si può trovare nei ritratti di bambini, che venivano spesso fotografati tra le braccia delle loro madri o circondati dai loro giocattoli preferiti. Un tentativo straziante di catturare una parvenza di vita in mezzo al pallore della morte. Una fotografia notevole di questo periodo è quella di principe Alberto Vittorio, duca di Clarence e Avondale, nipote della regina Vittoria, che morì nella pandemia di influenza del 1899-1890. La sua fotografia post-mortem, che lo mostra disteso in stato, riflette l'adesione della famiglia reale a questa usanza, sottolineando la sua accettazione diffusa attraverso i vari strati sociali. I fotografi che si specializzavano in questi ritratti cupi diventarono maestri dell'illusione, impiegando varie tecniche per infondere nelle fotografie una qualità simile alla vita. Supporti e morsetti venivano nascosti sotto i vestiti per sorreggere il corpo, mentre gili artisti potevano dipingere gli occhi sulle palpebre chiuse del soggetto o aggiungere una tinta di colore sulle guance nella stampa finale. In America, un fotografo di nome Jeremiah Gourney guadagnò fama per la sua abilità nel catturare l'essenza del defunto, offrendo una parvenza di conforto alle famiglie durante il loro momento di lutto. Il fenomeno della fotografia post-mortem non era limitato a un solo paese. Era una pratica che risuonava profondamente attraverso l'Atlantico, sia in Europa che negli Stati Uniti. La guerra civile americana, 1861-1865, con la sua catastrofica perdita di vite, vide un aumento della domanda per questi ricordi, poiché le famiglie si aggrappavano alle immagini di soldati che non sarebbero mai tornati. Un esempio notevole di fotografia post-mortem è il ritratto del figlio del presidente Abraham Lincoln, Willie, che morì alla Casa Bianca nel 1862. La fotografia, che ritrae il giovane ragazzo disteso in riposo, è un promemoria struggente delle tragedie personali affrontate dalle figure pubbliche. Allo stesso modo, le fotografie dei membri defunti dell'aristocrazia europea e dell'elite americana offrono uno sguardo sulla natura universale del dolore e il desiderio di trattenere coloro che abbiamo perso. Una delle citazioni più famose dell'epoca, attribuita ad Abraham Lincoln, tocca il peso di tali perdite. In questo triste mondo nostro, il dolore arriva a tutti e ai giovani, arriva con l'agonia più amara perché li coglie di sorpresa. Aneddoti abbondano di famiglie che si riuniscono per un ultimo ritratto con un membro partito, un ultimo atto di unità di fronte alla separazione. Queste immagini, per tutta la loro quiete spettrale, parlano volumi sulle vite che commemorano, servendo come un promemoria toccante della presenza duratura del passato. Mentre l'epoca vittoriana cedeva il passo all'edoardiana e il mondo marciava verso il ventesimo secolo, la pratica della fotografia post-mortem cominciò a svanire. L'avvento della fotografia istantanea permise di catturare ricordi più spontanei, spostando il focus culturale dalla morte alla vita. Eppure, l'eredità di queste fotografie post-mortem perdura, un testamento al desiderio umano di trattenere coloro che amiamo molto tempo dopo che ci hanno lasciato. Sotto la città delle luci, il labirinto ombreggiato delle catacombe di Parigi. Nel cuore di Parigi, sotto le strade trafficate e la vita vibrante della città, giace un mondo sommesso, una città silenziosa dei morti conosciuta come le catacombe. Questo labirinto sotterraneo, che si estende per centinaia di chilometri, culla i resti di oltre sei milioni di anime, rendendolo uno degli ossari più inquietanti e affascinanti del mondo. La creazione delle catacombe alla fine del XVIII secolo fu un progetto monumentale, nato dalla necessità e dalla disperazione, una risposta ai cimiteri straripanti della città e ai pericoli per la salute che comportavano. La storia delle catacombe inizia alla fine del XVIII secolo, quando Parigi affrontava una grave crisi sanitaria pubblica. I cimiteri della città, in particolare les Innocents, il più vecchio e grande cimitero, erano sovraffollati. Le segnalazioni di materia in decomposizione che infiltrava l'approvvigionamento idrico locale e diffondeva malattie, costrinsero il re Luigi XVI e le autorità parigine a cercare una soluzione. Fu presa la decisione di eliminare il problema alla radice, esumando i corpi e trasferendoli nelle cave abbandonate sotto Parigi. Nel 1786 il trasferimento iniziò sotto il coperto della notte. L'operazione era avvolta in segretezza e riverenza. Una processione di carri drappeggiati di nero trasportava le ossa dai cimiteri al loro nuovo luogo di riposo. Le prime delle spoglie furono trasferite alle catacombe il 7 aprile 1786, segnate da una cerimonia che consacrò il sito con il nome di ossario municipale, in seguito divenuto noto come le catacombe, denominate così in omaggio alle catacombe romane, che avevano ispirato un senso simile di morbosa fascinazione. Le catacombe non erano semplicemente un sito di sepoltura, ma un mausoleo meticolosamente pianificato. Le ossa erano disposte artisticamente, con femori e teschi che formavano muri e altre ossa che riempivano lo spazio dietro di loro. Questo arrangiamento non era fatto solo per ragioni pratiche, ma serviva anche come promemoria dell'uguaglianza della morte, spogliando via le distinzioni di status, ricchezza e potere che avevano diviso queste persone in vita. Tra i corridoi labirintici si possono trovare iscrizioni, poemi e citazioni che riflettono sulla mortalità e sulla condizione umana. Una famosa iscrizione all'ingresso recita «Arrete, cetici l'Empire dell'Amor, fermati, questo è l'impero della morte», un saluto solenne ai visitatori che sottolinea il doppio ruolo delle catacombe come sia un sito di sepoltura che un luogo di riflessione sulla natura transitoria della vita. Le catacombe sono state anche una fonte di fascino e ispirazione nei secoli. Durante la rivoluzione francese si dice che i membri della comune di Parigi usassero i tunnel come nascondiglio. Più tardi, nel XIX secolo, le catacombe catturarono l'immaginazione di scrittori e poeti. Victor Hugo fece riferimento a questo mondo sotterraneo nel suo romanzo I Miserabili e si dice che Philippe Asper, un portiere presso l'ospedale di Val de Grasse, vagò nelle catacombe nel 1793 e si perse. Il suo corpo non fu scoperto fino a undici anni dopo, diventando parte della leggenda delle catacombe. Nel corso degli anni, le catacombe hanno visto vari usi, dal luogo di incontro clandestino per società segrete al luogo unico per concerti ed eventi nel XIX secolo. Eppure, il ruolo principale delle catacombe è sempre stato quello di un ossario monumentale, un forte promemoria della storia di Parigi e dell'ombra sempre presente della morte sotto le strade della città. Le catacombe di Parigi rimangono una delle attrazioni più enigmatiche e avvincenti della città, attirando visitatori da tutto il mondo desiderosi di esplorare i suoi corridoi oscuri e riflettere sulle storie dei milioni che riposano entro le sue mura. Questo ossario sotterraneo, prodotto della tumultuosa storia di Parigi, sta come testimonianza della capacità della città di reinventarsi, anche nella morte, e continua a catturare l'immaginazione di tutti coloro che osano avventurarsi sotto la città delle luci. Ombre sotto il suolo, scoprendo l'eredità della peste nera. Nella metà del XIV secolo, l'Europa fu avvolta in un sudario di morte mentre la peste nera, una pandemia devastante causata dal batterio Iersini a Pestis, spazzava via il continente. Tra il 1347 e il 1351, essa mietè la vita di un numero stimato di 25 milioni di persone, fino a un terzo della popolazione europea dell'epoca. L'entità della tragedia era inimmaginabile, con intere comunità che scomparivano al passaggio della malattia. In questa era tetra, la logistica della morte divenne una realtà macabra, poiché le pratiche funerarie tradizionali furono sopraffatte dal numero enorme di vittime. Questo portò alla creazione di fosse comuni e tombe di massa, che da allora sono diventate un'eredità inquietante del tributo della pandemia. L'arrivo della peste nera in Europa fu segnato dalle navi che attraccavano al porto di Messina, in Sicilia, nel 1347, i cui equipaggi erano morti o moribondi a causa della peste. Da lì la malattia si diffuse come un incendio, lasciando città, paesi e villaggi alle prese con una crisi di mortalità senza precedenti. I cimiteri tradizionali si riempirono rapidamente, rendendo necessario l'uso di fosse comuni. Queste furono spesso scavate frettolosamente, ai margini degli insediamenti o all'interno delle terre monastiche, dove i corpi dei defunti potevano essere sepolti in massa. A Londra la situazione era disperata. I cimiteri della città non potevano più ospitare i morti, portando all'istituzione di diversi siti di sepoltura d'emergenza. Uno dei più notevoli fu il cimitero della peste nera di East Smithfield, stabilito per decreto reale. Gli scavi archeologici nell'area hanno scoperto fosse comuni contenenti corpi impilati fino a cinque strati di profondità, riflesso del caos e della disperazione del tempo. I documenti dell'epoca, inclusi quelli della Torre di Londra, indicano che questo sito da solo potrebbe essere stato il luogo di riposo finale per decine di migliaia di londinesi, indicando l'istituzione rapida di questo sito per ospitare i morti, con il re Edoardo III che emise ordini per la sua creazione nel 1348. Allo stesso modo, in altre parti d'Europa, come l'Italia e la Francia, l'uso di fosse comuni divenne una pratica comune. A Venezia, per esempio, l'isola di Poveglia fu designata come stazione di quarantena per la peste, dove le vittime erano portate a morire e sepolte in grandi fosse. Si dice che l'isola contenga i resti di oltre centomila persone, rendendola uno dei più inquietanti ricordi della devastazione della peste. La scoperta di questi siti di sepoltura nell'era moderna ha aperto una finestra sul passato, permettendo a scienziati e storici di ricomporre il puzzle della peste nera. Lo scavo di una fossa comune a Clermont-Ferrand, Francia, ad esempio, ha rivelato non solo le ossa dai defunti, ma anche uno spaccato di vita e morte nel XIV secolo. Archeologi e storici si affidano a una combinazione di documenti storici, mappe e resoconti contemporanei per localizzare queste tombe. Una volta identificati, l'escavazione attenta e l'analisi dei resti possono rivelare non solo la causa della morte, ma anche le abitudini alimentari, le condizioni di salute e persino lo status sociale delle vittime. Uno dei ritrovamenti più significativi da questi siti è la presenza del DNA di Yersinia pestis, che ha aiutato a confermare la causa batterica della peste nera. Gli studi sui campioni di denti degli scheletri nelle fosse comuni sono stati fondamentali per comprendere la diffusione e la virulenza della malattia. Ad esempio, l'analisi dei resti da una fossa comune a Barcellona, Spagna, ha fornito dati cruciali sulla ceppa del batterio, gettando luce su come la malattia si sia diffusa attraverso l'Europa. Inoltre, l'analisi isotopica delle ossa ha illuminato le diete e le origini delle vittime, suggerendo che la peste colpì sia i locali che i migranti che vivevano nei centri urbani. Le implicazioni etiche dello scavo delle fosse comuni sono complesse, bilanciando la ricerca della conoscenza con il rispetto per i defunti. In luoghi come il villaggio della peste di Eiam, in Inghilterra, dove la popolazione locale scelse di mettersi in quarantena per prevenire la diffusione della malattia, gli scavi sono approcciati con particolare sensibilità, tenendo conto del sacrificio e della sofferenza della comunità. Tra gli aneddoti che riportano alla vita l'elemento umano di questa tragedia, c'è il racconto di Agnolo di Tura, un cronista italiano che scrisse della peste nera a Siena, Italia. Egli lamentava, e così molti morirono, che tutti credevano fosse la fine del mondo. Questo resoconto personale, insieme ad altri del periodo, evidenzia la disperazione e l'impotenza provate da coloro che vissero attraverso la pandemia. Man mano che scopriamo questi strati di storia, ci ricordiamo delle parole di Giovanni Boccaccio in Il Decameron, che scrisse della peste, di fronte a tanta afflizione e miseria, tutto il rispetto per le leggi di Dio e dell'uomo, era crollato ed estinto nella nostra città. Navigando verso l'eternità, le maestose sepolture nelle navi vichinghe, nelle nebbie ombreggiate del nord, dove il mare accarezza la terra e gli echi del passato sussurrano con la forza del vento, le sepolture nelle navi vichinghe si ergono come un monumentale retaggio dei norreni. Questa venerabile tradizione, fiorita dall'VIII all'XI secolo attraverso le terre nordiche e oltre, incarna l'essenza dello spirito vichingo, una testimonianza del loro profondo legame con il mare, della loro incrollabile fede nell'aldilà e della loro ricerca dell'onore al di là del limite mortale. La genesi di questo rituale giace profondamente all'interno della cosmologia norrena, un sistema di credenze dove il tessuto della vita e dell'aldilà è intrecciato con gili e elementi e la nave, simbolo ineguagliabile dell'ingegnosità vichinga e dell'esplorazione, serve come carro verso i regni oltre. La scoperta della nave di Oseberg nel suolo della Norvegia nel 1904, un vascello risalente all'834, svela la grandezza. di queste cerimonie. Nel suo abbraccio di legno giacevano due donne di nobile lignaggio, il loro viaggio terreno concluso in mezzo a un tesoro di artefatti e simboli di potere, suggerendo una cerimonia che trascendeva la mera sepoltura, un rito di passaggio nella mitologia stessa. La meticolosa orchestrazione del rituale di sepoltura nella nave riflette i valori sociali e le credenze spirituali dei vichinghi. La nave di Gokstad, dissotterrata nel 1880 vicino a Sandefjord, Norvegia, e datata alla fine del IX secolo, cullava i resti di un guerriero distinto, circondato dalle sue armi, cavalli e persino navi, pronto a navigarlo nell'aldilà. Queste pratiche non erano meramente funerarie. Erano una celebrazione della vita del defunto, una testimonianza del loro valore e una manifestazione fisica del loro viaggio nell'aldilà, ritenuto essere sorvegliato dagli dèi stessi. Tra le saghe e le leggende, la pratica di incendiare una nave e mandarla alla deriva come una pira funeraria cattura l'immaginazione, un'immagineria vivida che è diventata sinonimo di riti funebri vichinghi. Sebbene le prove archeologiche di tali pratiche siano rare, il racconto della morte di Baldr, figlio di Odino, nelle Edda islandesi, dove il suo corpo è posto sulla sua nave Ringorni, incendiato e spinto verso il mare, incapsula la natura poetica delle usanze funerarie norrene, mescolando il mito con le forze elementali del fuoco e dell'acqua. La portata dei vichinghi si estendeva ben oltre i fiordi della Scandinavia, lasciando tracce delle loro tradizioni di sepoltura attraverso le terre che toccavano. La presenza di sepolture nelle navi in luoghi come la Scozia e l'isola di Mann attesta lo scambio culturale tra i vichinghi e i popoli delle isole britanniche. La sepoltura nella barca di Scarne le Orcadi, Scozia, datata al X secolo, con la sua serie di beni funerari norreni accanto a una donna vichinga, un bambino e un uomo, illustra l'influenza diffusa delle usanze vichinghe, anche nella morte. Centrale nelle sepolture nelle navi vichinghe non è solo il rituale stesso, ma gli individui che onorava, guerrieri, marinai e significativamente potenti donne. La sepoltura di Joseberg, con i suoi opulenti beni funerari e la prominenza delle donne che vi sono sepolte, sfida le percezioni moderne della società vichinga, rivelando una struttura sociale complessa dove le donne potevano detenere notevole status e potere. Queste sepolture narrano storie di un passato dove il mare era un sentiero non solo per la conquista e l'esplorazione, ma per il cuore stesso del divino. L'eredità delle sepolture nelle navi vichinghe, una fusione di arte, spiritualità e prodezza marittima, continua a catturare e illuminare. Attraverso il lavoro meticoloso di archeologi e storici, ogni scavo toglie i veli del tempo, rivelando di più sulla vita di coloro che vivevano al ritmo dei remi e al richiamo del mare. In questi antichi riti intravediamo la ricerca universale di significato nella morte e il desiderio di immortalizzare il viaggio dell'anima. Così, le sepolture nelle navi vichinghe si ergono come un profondo emblema di un'epoca passata, un'epoca dove la linea tra la terra e l'etereo era navigata con navi di quercia, sotto vele gonfie con i venti della leggenda, portando i norreni dai fiordi della loro esistenza mortale ai porti dell'eternità. Nelle parole di un vecchio proverbio norreno, l'uomo coraggioso, bene, combatterà e vincerà, anche se opaca possa essere la sua lama. Ombre sui crocevia, lo spettacolo macabro del gibbetting. Negli annali della giustizia punitiva, poche pratiche evocano il tablò macabro del gibbetting, un metodo in cui i corpi dei criminali giustiziati venivano esposti in gabbie di metallo alla vista pubblica. Questo spettacolo, radicato nella convinzione della sua efficacia come deterrente contro il crimine, getta una lunga ombra sulla storia della punizione criminale, raggiungendo il suo apice in Inghilterra durante il XVIII e l'inizio del XIX secolo. Il gibbetting, conosciuto anche come impiccagione in catene, non era solo un metodo di punizione, ma un rituale sociale, intriso di strati di implicazioni sociali e psicologiche che riflettevano la complessa relazione dell'epoca con la legge, l'ordine e la moralità. La pratica del gibbetting era riservata ai crimini più efferati, come l'omicidio o la pirateria, servendo come un severo avvertimento a chiunque osasse seguire un percorso simile. Il processo prevedeva l'impiccagione del criminale condannato, seguita dall'incasellamento del loro corpo in un gibbet, una gabbia di metallo modellata alla forma umana, e la sua sospensione in un crocevia prominente o vicino alla scena del crimine. Ciò fu fatto sotto gli auspici del Murder Act del 1752, che codificava la pratica in Inghilterra, affermando che era intesa a essere un ulteriore terrore e un particolare segno di infamia. Uno dei casi più noti di gibbetting fu quello di William Jobling. Jobling, un minatore coinvolto nello sciopero dei minatori del 1832 a Jarrow, Inghilterra, fu condannato per omicidio e gibbettato su Jarrow's Lake. Il suo corpo, incasellato in una gabbia di ferro e issato in cima a un palo del gibbet, servì come un macabro promemoria delle conseguenze del disprezzo della legge. Il gibbet di Jobling divenne un simbolo delle severe misure impiegate dalle autorità per sopprimere il dissenso e mantenere l'ordine sociale durante un periodo di diffuso disordine e cambiamento. La scelta della località per il gibbetting era strategica, progettata per massimizzare la visibilità dello spettacolo e di conseguenza il suo effetto deterrente. I crocevia, essendo luoghi di alto traffico, erano preferiti, così come i siti vicini a dove era stato commesso il crimine. Questo garantiva che il messaggio, il destino che attendeva coloro che infrangevano la legge, fosse consegnato a un pubblico il più ampio possibile, incastonando il ricordo dello spettacolo nella coscienza comunitaria. L'impatto psicologico del gibbetting sul pubblico era profondo. L'esposizione di corpi in decomposizione, lasciati oscillare nell'aria fino a che non cadevano a pezzi, era una rappresentazione visiva tangibile del potere dello Stato sulla vita e sulla morte. Era inteso a instillare paura, non solo della punizione, ma anche dell'ostracizzazione sociale. Il criminale, nella morte, diventava una lezione oggettiva sulle conseguenze della trasgressione, una manifestazione fisica dei confini della società. Samuel Johnson, riflettendo sull'efficacia delle esecuzioni pubbliche, commentava, «Le esecuzioni sono intese a attirare spettatori. Se non attirano spettatori, non raggiungono il loro scopo». Tuttavia, l'efficacia del gibbetting come deterrente rimane oggetto di dibattito storico. Sebbene abbia indubbiamente lasciato un segno indelebile sulla psiche pubblica, la sua capacità di prevenire il crimine è meno chiara. Alcuni osservatori contemporanei notarono che questi spettacoli macabri potrebbero aver avuto l'effetto opposto, desensibilizzando il pubblico alla violenza e alla brutalità, o peggio, trasformando i criminali in martiri, agli occhi di coloro che si sentivano oppressi dallo stesso sistema che sanzionava tali punizioni. La pratica del gibbetting cadde gradualmente in disuso nel XIX secolo, man mano che gilei atteggiamenti sociali verso la punizione e la riabilitazione iniziarono a cambiare. Il caso di James Cook nel 1832, che fu gibbettato vicino a Leicester per l'omicidio del suo creditore, segna uno degli ultimi esempi di gibbetting in Inghilterra. L'indignazione pubblica e il disagio generati dal gibbetting di Cook contribuirono al crescente movimento contro la pratica, portando alla sua abolizione in Inghilterra tramite l'Anatomy Act del 1832 e al declino finale degli spettacoli di esecuzione pubblica. Echi della lama, gli ultimi riposi dell'ombra della ghigliottina. Nella tempesta della rivoluzione francese, un nuovo spettro sorse sulla Francia, la sua lama luccicante con la promessa di uguaglianza, ma macchiata dal sangue dei condannati. La ghigliottina, una macchina progettata per l'esecuzione rapida ed egualitaria della giustizia, divenne un simbolo dei giorni più bui della rivoluzione. Mentre cadeva, teste e corpi venivano separati, non solo dalla vita, ma dalla dignità della morte, lasciando una scia di domande sul destino che li colpì postumo. Il 21 gennaio 1193, Luigi XVI, un tempo sovrano regnante della Francia, fu scortato alla Piazza della Rivoluzione, ora Piazza della Concordia, a Parigi, dove affrontò la ghigliottina. I suoi ultimi momenti furono segnati da un discorso interrotto dai rulli dei tamburi, mentre la lama scendeva, recidendo i suoi legami con il mondo. Il corpo e la testa del re, come quelli di molti ghigliottinati, furono inizialmente sepolti in fosse comuni nel cimitero della Maddalena, una fine umile per un monarca. Nel 1815, durante la restaurazione borbonica, i suoi resti furono riesumati e trasferiti nella Basilica di Saint-Denis, il tradizionale sito di sepoltura dei re francesi, in una cerimonia che cercava di riconciliare la nazione fratturata con il suo passato reale. Maria Antonietta seguì suo marito alla ghigliottina il 16 ottobre 1193. Il suo ultimo viaggio attraverso Parigi fu segnato dallo scherno della folla, ben lontano dall'adulazione che un tempo l'aveva accolta. Come Luigi, i suoi resti furono sepolti discretamente nel cimitero della Maddalena. Fu solo nel XIX secolo che anche i suoi resti furono trasferiti a Saint-Denis, riunendo la regina caduta con la sua famiglia nella morte, se non nella dignità dei loro ultimi momenti. Le sue ultime parole, «Perdonatemi, signore, non intendevo farlo», rivolte al boia per un piccolo passo falso, echeggiano la dignità con cui affrontò il suo destino. Il destino delle vittime meno nobili della ghigliottina variava ampiamente. Molti furono sepolti in fosse comuni, i loro corpi gettati senza cerimonia e coperti di calce per accelerare la decomposizione. Il cimitero degli Erransi, ora perduto sotto le moderne strade di Parigi, servì come uno di tali siti di sepoltura di massa, dove figure come Georges Danton e Camille de Moulin furono sepolti. Queste tombe non furono segnate, le loro posizioni spesso dimenticate, come per cancellare la memoria degli eccessi della rivoluzione. Tra gli aneddoti che punteggiano il regno del terrore, la storia della giovane e sfacciata Charlotte Corday, spicca. Corday, che assassinò il giornalista radicale Jean-Paul Marat, affrontò la ghigliottina con coraggio stoico il 17 luglio 1193. La sua esecuzione, come molte altre, fu un affare pubblico, che attirò folle desiderose dello spettacolo. Eppure, il suo comportamento calmo e la giustezza della sua causa lasciarono un segno indelebile nella coscienza pubblica, evidenziando le complessità e le contraddizioni della rivoluzione. L'impatto culturale di queste esecuzioni pubbliche non può essere sopravvalutato. Erano concepite come lezioni morali, spettacoli del potere dello Stato sulla vita e sulla morte, frequentati da folle di parigini che si radunavano per assistere agli ultimi momenti dei condannati. Eppure, la ghigliottina ispirò anche una morbosa fascinazione, dando vita a canzoni, opuscoli e persino giocattoli a forma del famigerato dispositivo. Questo consumo pubblico della morte rifletteva una società alle prese con la propria identità in mezzo al tumulto della rivoluzione. Gli aneddoti di questi tempi spesso sfumano la linea tra orrore e umanità. Si racconta che l'esecuzione di Luigi XVI fu accolta con un silenzio sbigottito, un respiro collettivo trattenuto da una nazione, mentre la vita del suo re veniva abbreviata. Al contrario, l'esecuzione di Robespierre, ferito e spezzato, fu accolta con scherni e celebrazioni, un triste indicatore della sua caduta dalla grazia rivoluzionaria. L'ossessione pubblica per la morte di questo periodo è incapsulata nelle parole di Madame Tussaud, che fu incaricata di fare le maschere mortuari e dei giustiziati. Lei disse «Ho visto le teste di tutti gli amici che avevo al mondo cadere nel cesto. È una sorta di miracolo che io sia ancora viva». Madame Roland, una figura politica e un'altra vittima della ghigliottina, esclamò famosamente «Oh libertà, che crimini vengono commessi nel tuo nome». Prima della sua esecuzione, l'8 novembre 1193. Le sue parole incapsulano la tragica ironia della rivoluzione, una ricerca della libertà che si trasformò in un ciclo di violenza e ritorsione. Sentieri di dolore, il viaggio del treno funebre di Lincoln e oltre. Negli annali della storia, pochi eventi hanno catturato il dolore collettivo di una nazione come l'assassinio di Abraham Lincoln il 14 aprile 1865. Nei giorni successivi, una nazione già provata dalla guerra civile si trovò immersa nel lutto. La decisione di trasportare il corpo di Lincoln da Washington DC al suo ultimo luogo di riposo a Springfield, Illinois, tramite un treno funebre, segnò non solo il lutto nazionale, ma sottolineò anche il ruolo cruciale delle ferrovie nelle pratiche culturali e commemorative del tempo. Il treno funebre di Lincoln iniziò il suo viaggio solenne il 21 aprile 1865, trasformando i binari su cui viaggiava in nastri di lutto che si estendevano attraverso il cuore dell'America. Questo evento, senza precedenti, vide migliaia di americani lungo i binari, città e paesi drappeggiati in veli neri, e persone che rendevano omaggio in un'effusione collettiva di dolore. Il treno, adornato con crepe nere e ritratti del presidente caduto, divenne un monumento in movimento, un'espressione tangibile del dolore della nazione. Il percorso del treno funebre fu meticolosamente pianificato, coprendo approssimativamente 2654 chilometri e passando attraverso 180 città in sette stati. In fermate significative come Philadelphia, New York e Chicago, il corpo di Lincoln fu tolto dal treno e posto nei capitoli statali o nei municipi, permettendo a centinaia di migliaia di persone in lutto di rendere omaggio. Fu un'impresa logistica, senza precedenti per il suo tempo, sfruttando la capacità delle ferrovie di unire parti disparate di una nazione fratturata nel lutto. Il treno funebre di Lincoln non fu semplicemente un mezzo di trasporto. Fu un luogo mobile di lutto e commemorazione, simbolizzando la profondità della perdita nazionale. Rifletteva anche il ruolo emergente delle ferrovie nella vita americana, non solo come motori di commercio e connettori di comunità distanti, ma come portatori di memoria e emozione collettiva. L'immagine del treno, serpeggiante attraverso il paesaggio americano, portò la realtà della morte di Lincoln nel cuore della nazione, rendendo il lutto sia personale che condiviso. In modo significativo, il treno funebre di Lincoln trasportava anche il corpo di Willie Lincoln, il giovane figlio del presidente morto alla Casa Bianca tre anni prima. Il suo corpo fu riesumato e posto a bordo del treno per essere sepolto nuovamente con suo padre a Springfield, aggiungendo uno strato di tragedia personale al lutto pubblico. Il viaggio stesso fu pieno di momenti toccanti e scene vivide che si sono incise nel tessuto della storia americana. A Baltimore, una città con lealtà divise durante la guerra civile, una folla immensa si radunò in silenzio, la loro presenza un potente testimone dell'eredità di unità di Lincoln. A Harrisburg, Pennsylvania, nonostante un acquazzone torrenziale, migliaia rimasero nel fango per ore, in attesa di una possibilità per vedere la bara del presidente. Queste scene di solenne unità e rispetto sottolinearono il ruolo del treno nel facilitare uno spazio condiviso per il lutto pubblico. Una citazione del New York Herald, datata 25 aprile 1865, riflette l'umore della nazione. Nessun evento ha mai commosso profondamente l'anima della nazione come la morte di Abraham Lincoln. Il treno funebre non solo evidenziò l'importanza delle ferrovie nella vita americana, ma dimostrò anche la loro capacità di unificare una nazione attraverso vaste distanze. Negli anni successivi, i treni funebri divennero una tradizione riverita per commemorare figure distinte, una pratica che continuò nel XX secolo con i treni funebri dei presidenti Franklin D. Roosevelt e Dwight D. Eisenhower, tra gli altri. Eppure, nessuno catturò l'immaginazione o il cuore della nazione come quello di Lincoln. Mentre esploriamo gli echi del passato, scoprendo i modi vari e profondi con cui l'umanità ha onorato i defunti, dai valorosi gladiatori dell'antica Roma alla toccante fotografia post-mortem dell'epoca vittoriana, siamo ricordati della relazione sempre in evoluzione tra i vivi e i defunti. E mentre diciamo addio alle storie di coloro che ci hanno preceduto, ricordiamo le parole del filosofo romano Seneca. Il giorno che temiamo come il nostro ultimo è solo il compleanno dell'eternità. È nella riflessione sulla morte che la vita trova il suo significato più profondo e nell'onorare coloro che abbiamo perso, che troviamo le nostre connessioni più profonde con il nostro passato, le nostre culture e con l'esperienza umana stessa. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso gli annali della storia, esplorando gli ultimi saluti di coloro che hanno lasciato il loro segno sul mondo. Fino alla prossima volta possiamo tutti continuare a valorizzare le storie che ci uniscono attraverso tempo e spazio, nella vita e nella morte.